buongiorno buongiorno e forza ragazzi non smette di piovere a firenze dopo il primo maggio contraddistinto ovviamente da una pioggia incessante oggi 2 maggio torna ovviamente il video del del giorno prima di salenitana fiorentina ieri ragazzi ve l'avevo tra virgolette annunciato che avrei fatto il video del giorno dopo però l'era il primo maggio l'era festa l'ero a casa insieme alla mia moglie ho voluto sfruttare la giornata insieme alla mia moglie ve lo dico e a retondo ragazzi tanto c'era poco da chiacchierare poco da dire un 5 a 0 poco diritto di replica insomma quello che c'era da dire l'ho detto tutto sul video del post partita e ho detto anche la mia su il gruppo di spessi viola su youtube ragazzi i miei top e flop e quindi vi invito anche a seguire gli amici di spessi viola vi lascio qua sotto il link in descrizione come sempre ragazzi vi ricordo se avete piacere di seguire anche me andrea marino mister viola instagram e facebook vi lascio qua sotto ovviamente qua su youtube è molto semplice se li va vi scrivete il giorno prima di salernitana fiorentina partita di ex paolo sosa affronta la sua ex squadra pionte che affronta la sua ex squadra insomma sarà una partita difficilissima molto complicata per la fiorentina ovviamente perché si continua a giocare nei tre giorni grande esperimento vincente di italiano con la sampdoria che ha messo ovviamente giocatori che avevano avuto poco spazio vedi duncan vedi ovice nell'ultimo periodo ranieri stesso insomma ha tirato fuori un po non voglio dire le seconde linee ma coloro che avevano meno spazio e comunque contro una sampdoria che ripeto si sta cingendo a salutare la serie a abbiamo vinto abbiamo vinto in maniera anche abbastanza eclatante e meritata girando anche forse un po il cortello nella ferita della sampdoria detto questo con la sampdoria non sarà una partita facile ragazzi secondo me italiano continuerà un po di vari esperimenti forse potrebbero tornare un po le prime linee anche se darei fiducia alla squadra che ha vinto la sampdoria però ripeto sempre con il concetto di giocare nei tre giorni qualcuno ovviamente si sederà in panchina e darà spazio a chi non ha giocato ovviamente contro la sampdoria salernitana che non è facile affrontare al di là dell'ex paolo sosa che vorrà far bella figura contro la sua squadra stesso discorso secondo me per piontek che secondo me il fatto che non sia stato riscattato dalla fiorentina salera un po legata al dito anche se non ha avuto e non sta avendo una stagione esaltante alla salernitana vorrà non può togliersi alcune soddisfazioni la fiorentina dalla parte sua ha questa possibilità di sfruttare quelli che potrebbero essere risultati dagli altri campi vi faccio un esempio ragazzi siamo distanti 10 punti dall'atalanta ora voi direte mister ma come prima dicevi che il campionato non si doveva contare io conto tutto ragazzi nel senso finché la matematica non mi tiene fuori per quale ragione non devo provarci 10 punti dall'atalanta che occupa la settima posizione l'atalanta affronta lo spezia anche esso implicato nella lotta per non retrocedere attenzione a queste squadre perché sono quelle squadre che riescono poi a tirar fuori quella garra quella voglia quella cattiveria che può mettere in difficoltà chiunque quindi tu squadra innanzitutto devi continuare a vincere sapete no come la penso io vincere aiuta a vincere molto semplice quindi andiamo a salerno contro una salernitana provando a portare a casa tre punti tre punti che permetterebbe alla fiorentina di salire a 48 vedere quello che succede con le altre squadre che tutti affrontano squadre difficili c'è empoli bologna c'è atalanta spezia insomma nessuno alla giornata facile se vogliamo perché ci sono anche degli scontri diretti o perlomeno scontri che riguardano molto la bassa classifica e ci sono ancora quelle squadre che magari ma gli mancano quei due o tre punti per chiudere la pratica salvezza o perlomeno allontanarsi di tantissimo dalla zona per non retrocedere una di queste è proprio la salernitana la fiorentina al di là della questione che ultimamente sta tenendo banco lo stadio sapete sono cose che extra calcistica in questo momento già in passato l'ho detto non mi voglio far distrarre da queste cose perché la fiorentina in questo momento ha la possibilità veramente di scrivere una pagina indelebile nella storia della fiorentina c'è questa conference league che a breve ci vederà protagonisti e in campionato dobbiamo continuare ad andare avanti ve la faccio molto breve ragazzi domani contro la serenitana deve giocare la miglior squadra deve giocare la squadra più pericolosa possibile dovremmo essere bravi perché la serenitana ha messo in difficoltà tantissime squadre è andata a pareggiare l'ottantaquattresimo col napoli che praticamente era indirizzata alla vittoria per lo scudetto e gli ha dovuto far rimandare la festa quindi insomma lo scopo di della serenitana è riuscito paolo sosa nonostante abbia citato non sarà in panchina perché è espulso quindi questo sarà un vantaggio per noi ma però non dobbiamo sottovalutare l'avversario come magari in altre circostanze abbiamo fatto sarà un avversario difficilissimo da affrontare mi aspetto una partita difficile maschia una sfida che si vincerà molto spesso al centro campo perché l'attacco della serenitana non è fantastico l'attacco della fiorentina in questo momento forse sta soffrendo un po' di una flessione perché sono andati in gol in tanti però molti sono centrocampisti quindi manca un po' il gol delle punte vi dico la verità al di là di qua me però ecco mi aspetto una partita maschia una partita che secondo me sarà spezzettata molto spesso dai falli quindi detto questo banda le ciance ragazzi bisogna vincere anche domani perché andare a 48 punti e vedere che succede negli altri campi secondo me potrebbe aprirti uno scenario anche in serie A in cui veramente potremmo dire che la fiorentina sta correndo su tutti e tre i fronti non devo altro come sempre forza viola